Bella ragazzi, sono Riot Sono qui con un nuovo video, anzi il primo video del mio canale YouTube che ho aperto proprio la settimana fa e volevo già farlo questo video un paio di giorni fa però avevo il disco rotto e mi si bloccava anche questa volta qui, in questa è stata una delle volte che non mi si è bloccato il disco e infatti a volte però c'è uno stacchetto proprio ma è proprio forse un po' più di lag non del disco questa partita e qui, questo, in questo primo video vi ho fatto vedere vi ho messo come questo per primo video uno in cui riesco a tirare l'ospri io ne ho tirati un tipo 8 mi pare però questo magari era un po' veloce e forse con un piccolo cambiamento questo è un MP7 cosa più semplice di tirare un ospre con l'MP7 sì, va bene però l'ho tirato con un MP7 senza silenziatore ma non è che è stata più una scelta è stato perché proprio non avevo non avevo sbloccato niente perché l'avevo appena preso l'avevo fatto prestigio e tutto e qua guardate questa che l'ho tirato pre questo qua che mi viene mi sono spaventato a mille però ce l'ho fatta ucciderlo dai sono senza munizioni con l'MP7 me ne manca una Ripper e un po' di fischio qua metto il radar per capire un po' dove sono i nemici dai ce la faccio a tirarlo però non mi metto qui perché lì era troppo scoperto avete visto col Predator che l'ho rischiata più del 100% vabbè adesso tiriamo il Reaper così si vede tutta la mappa più che altro vi spiego un po' secondo me com'è questa mappa se guardate c'ha questi corridoi tipo per esempio a parte lì in centro su C che sono molto utili per tirare ricompense per esempio molto alte perché puoi non camperare ma essere sempre coperto capito e anche corri per tipo non è come Lockdown o Arcaden che è pieno sì qui è pieno di municipi però è aperta comunque invece lì tipo con un Reaper la attenzione questo è un momento che ne manca una Hitmark di sto tizio Nabbo che mi ha fatto arrabbiare anche quando mi ha fatto questa però ce la faccio e tiro questo bel elicotterino Ino è Ino perché però sono 17 kg di fila e c'è lo spray qua boh faccio un po' di kill non un po' così tante perché ovviamente ne ho tirati pochi cioè pochi 8 e non sono beh cioè in verità ne ho tirati 7 perché uno è ovviamente sempre per il problema del disco che a me non vi va vi ho già spiegato prima e non mi va e allora ho tirato quel preso l'ho preso dopo forse due secondi mi si impalla il disco e si l'ho preso ma non l'ho tirato ecco cioè non sono riuscito a usarlo però lo conto ovviamente e qua faccio una doppia per culo e devo andare in giro a coltellare perché ho 4 colpi con l'AMP9 e l'AMP7 ancora di meno ma qua pensavo di aver comando e allora stavo coltellando adesso lo coltello voglio tentare anche la MOAB però con questo super liquidator di con un ACOG silenziatore non l'avevo mai visto nella mia vita e forse è per quello anche che ho tirato lo spray perché erano così nabbi che usavano anche queste cose qua tentando la MOAB uccido questo Predator e lì vicino a me ho visto che c'erano due allora mi sono salvato la pelle e ho fatto una bella doppia qua c'era questo con l'MSR che mi ha rovinato tutta la serie però vabbè ho tirato un'offre possiamo anche accontentarci come dire poi adesso non so vediamo se riuscirò anche a tirare una MOAB però non so magari per come un altro video tirerò cioè non è che tirerò con ricompresse molto alte cioè farò un buon risultato ma con ricompresse tipo Predator elicottero e Reaper bastano però tipo faccio 52 2 per esempio non lo so vedremo adesso ne pubblicherò anche molti di osperi li ho pronti lì e ne farò anche altri qua questi che camper non so qua questa kill non so cosa ho fatto l'ho visto però sono andato mi l'ho concesso dai questa kill diciamo sono buona io sono gentile allora qua c'è un un bello stand mi sono spaventato mi ha colpito l'unico che deve colpire ha colpito me adesso un po' le mie classi adesso io le ho cambiate però prima tipo usavo beh adesso uso molto l'MP7 con specialista l'MP7 invece tipo no P90 con specialista perché quando per il bonus specialista sei tipo un mostro diventi con il P90 invece tipo con l'MP7 ho lo spray poi vi dico provate l'L86 LSV che è col mitra mitra leatrice leggera che beh sembra scarsa però è forte col silenziatore ha un po' di rinculo però e adesso uso l'XM25 non ti taghi sul nabo perché volevo provarla non ho mai provata adesso questo qui con l'UMP mi ha ucciso da così lontano io avevo boh non mi ricordo l'MP9 sì avevo no l'MP7 avevo boh non so come ha fatto qua scrivo LOL perché come rovinarmi un video no dai mi diverto scriverlo poi tento una faccina io sono non so fare i disegni no dai sono un po' aveva troppo rinculo con l'arma LOL adesso qui se vedete noi abbiamo preso due bandiere e li schiacciamo per esempio su B no adesso hanno preso A ritiro tutto LOL no dai lì il trucco è un po' schiacciarli su su una ma su una bandiera magari B non era quella più fortuna però vabbè perché quando spawnano su B spawnano un po' dappertutto se guardate perché sono lì soprattutto in quella casa dai spawnano sulla granata attenzione questo con l'XM25 ha rotto un po' vabbè trovi anche quelli in partita poi per tirare Moab o Osprey anche Johnny Creek o quel che vuoi hanno degli avversari di nabbi quando le tirano non è che hanno quelli al decimo prestigio adesso ho sbagliato ho schiacciato per sbaglio il tasto mi ha fatto andare indietro vabbè qui un altro Osprey aspetta ma andiamo un po' avanti così vabbè tanto qua tento di uccidere questo qua sempre stare un attimo più atti dei nemici è sempre più più semplice qua ne trovo due prima ce n'era uno boh tipo sono fantasmi certi guardate questo no no non è adesso si è adesso cioè questo qui stava fermo solo perché ci sono io questo qua deve deve giocare boh vabbè questo qua è un altro fantasma dai diciamo però non credo che sia spawnato perché era lì fermo quindi non stava giocando però visto che il mio nome allora è ritornato a giocare qua tentiamo di prenderci ma non credo se mi ricordo che la prendiamo rispondiamo è questo qua con il PP90 con il silenziatore un super liquidetto chiamiamolo qui ci sono i camperoni poi ha dato 5.350 punti per questa uccisione così così si vai avanti di livello 4.300 vabbè una bandiera le prendi anche beh i ripper non ne tiro altri cioè dopo quell'ospri che mi sono impegnato mi sono impegnato dopo mi sono un po' lasciato andare anche se mi uccidevano proprio non volevo fare più volevo solo tirare l'ospri non volevo fare una serie super qua poi con questo elicottero che proprio è impossibile beh meno male che questo mio amico non l'ha distrutta e termina così con una sconfitta però è stato un buon risultato quello è l'importante e vi saluto con questa kill di sto tizio che ha fatto una doppia mi pare si con hit market col primo vabbè ci vediamo al prossimo video bella qui da Riot ciao